Intascavano i contributi covid senza averne diritto 18 denunce della Guardia di Finanza alla Corte dei Conti, accertato un danno erariale di oltre 240 mila euro. In arrivo a Lucca tre nuovi autovelox. Entro la fine del mese i box saranno installati sulla via per Camaiore, sulla via Romana e sulla via Vecchia Pisana. Custodi della sostenibilità, 400 giovani per l'ambiente nei complessi di San Romano e San Micheletto, il progetto promosso dalla Diocesi di Lucca assieme alle scuole e alle associazioni del territorio. È Coppa Italia, ritorno a Fiorenzuola, rossoneri sul terreno degli Emiliani nel primo turno di Coppa Italia, Maraia adotta un robusto turnover in caso di parità al novantesimo. Subito rigore. Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale dedicata alle notizie di Lucca, Piana e Garfagnana. Lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura. In primo piano l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza della provincia di Lucca che ha portato a 18 denunce. Partiamo da qua con il servizio di Federico Conti. 18 persone sono state denunciate alla Corte dei Conti dalla Guardia di Finanza per un danno era reale di oltre 240 mila euro. L'accusa è di aver indebitamente percepito contributi a fondo perduto e finanziamenti garantiti dallo Stato, stanziati dal Governo per fronteggiare all'emergenza Covid. Decine e decine le attività controllate dalle fiamme gialle lucchesi, fra bar, pizzerie, ristoranti, attività investigative in tutta la provincia. Fra i casi più clamorosi, quello di un'agenzia immobiliare di Lucca che dopo aver percepito un finanziamento di 24 mila euro lo ha girato a favore del socio accomandatario, il quale lo ha utilizzato per eseguire dei lavori di ristrutturazione a casa, eludendo il vincolo di destinazione dei fondi all'attività dell'impresa. C'è poi il caso di un ristorante viareggino scoperto dal gruppo dei finanzieri di Viareggio. Il titolare della società aveva indicato ricavi non veritieri per circa 142 mila euro, ottenendo un finanziamento di 24 mila. I militari hanno inoltre appurato che nonostante la partita IVA risultasse formalmente attiva, di fatto l'attività di pizzeria era cessata in epoca precedente l'emergenza sanitaria in virtù di un contratto di cessione di ramo d'azienda. L'importanza dell'accertamento da parte dell'autorità contabile consente di poter avere un inquadramento più generale sulle responsabilità dei singoli privati perché a fronte di una presunta colpevolezza penale che sarà poi chiaramente accertata dall'autoria giudiziaria bisogna anche poi valutare e ponderare se vi sono dei profili errariali di danno alla luce di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che consente di poter valutare tale eventualità in capo non solo agli amministratori pubblici e funzionali pubblici ma anche in capo ai soggetti privati imprenditori. A seguito di un caso di febbre dengue contratto in un paese tropicale segnalato dall'azienda Usle Toscana Nord-Ovest in centro storico a Lucca, il sindaco Mario Pardini ha firmato un'apposita ordinanza che dispone un intervento di disinfestazione che sarà effettuato a partire dalle ore 7.30 di domani, mercoledì 5 ottobre e consisterà in una disinfestazione dell'area interessata con insetticidi. Si tratta sia di un intervento sia sul suolo pubblico che nelle proprietà private con ispezioni porta a porta delle abitazioni comprese nell'area segnalata che si estende su un raggio di 100 metri attorno alla zona della cattedrale. Durante il trattamento di disinfestazione, nell'area interessata dall'intervento, il comune raccomanda di seguire le indicazioni che verranno impartite dal personale in carica. Un frontale tra un'auto e un pullman sulla via di Sottomonte, la conducente della vettura è stata trasportata in codice rosso a Cisanello. Gravi incidenti sulla via di Sottomonte a Guamo, all'altezza del civico terreno, 34, nel primo pomeriggio uno scontro frontale tra un'auto diretta verso Capannori e un pullman di turisti che procedeva verso Lucca, ha fatto temere il peggio per la conducente della vettura rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. La donna, estratta dalle lamiere del mezzo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, nell'impatto avrebbe riportato un politrauma ed è stata quindi affidata alle cure del personale del 118 che ha provveduto al trasferimento in ambulanza in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Non avrebbero invece riportato ferite i turisti di nazionalità svizzera a bordo dell'autobus coinvolto nel sinistro. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermieristica della misericordia di Lucca, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Capannori. Il tratto in questione della via di Sottomonte, che nel punto dello scontro fa una semicurba, è già stato teatro di incidenti stradali. I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti nel comune di Capannori per soccorrere una donna caduta accidentalmente nel canale delle acque alle Parole d'Oro a Guano. La donna, inizialmente soccorsa dai parenti, è stata raggiunta dal personale dei vigili del fuoco sul sentiero, dove è stata stabilizzata insieme al personale sanitario del 118 per poi di essere trasportata con una barella toboga al veicolo sanitario per il trasporto in ospedale. A Lucca entro fine mese tre nuovi autovelox e-box saranno installati sulla via Perca Maiore, sulla via Romana e sulla via Vecchia Pisana. L'assessore Minniti tutelare la sicurezza dei cittadini ha detto facendo rispettare i limiti di velocità e utilizzando i proventi delle sanzioni per la messa in sicurezza delle strade. Nello specifico i dispositivi saranno collocati sulla via Perca Maiore, in località Tre Cancelli, sulla via Romana, nei pressi del Grand Hotel Guinigi, e sulla via Vecchia Pisana, prima della frazione di Montuolo, nei pressi del ponte autostradale. Veniamo agli aggiornamenti riguardo all'andamento della pandemia. Già massieme dati relativi alle ultime 24 ore, aiutandoci sempre con la nostra grafica. Sono 3.637 i nuovi positivi a livello regionale, l'età media è di 49 anni. Il tasso di positività sale al 21,2%. Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati nei posti letto Covid, 289, comeppure il dato delle terapie intensive, 11. 8 i decessi, l'età media dei deceduti è di 84 anni. 401, invece, è il numero dei nuovi positivi nella nostra provincia di Lucca. Un'azione di solidarietà nei confronti dei pazienti che fanno dialisi all'ospedale San Luca di Lucca è stata realizzata in questi giorni. Una donazione di 40 televisori, ovvero tutti quelli necessari per i pazienti che afferiscono al centro. La donazione è stata possibile grazie alla disponibilità dell'AVO, l'Associazione Volontari e Ospedalieri di Lucca, che ha promosso una raccolta fondi e alla generosità della Fosber, azienda leader nella produzione di macchinari per cartone ondulato, che ha sede a Monsagrati e ha finanziato completamente l'opera. Ci spostiamo in Garfagnana, ai vertici della Camera di Commercio, all'Unione Comuni. La sala giunta dell'Unione Comuni della Garfagnana ha ospitato l'incontro tra i sindaci del territorio e i vertici della nuova Camera di Commercio della Toscana al nord-ovest. Come è noto le Camere di Commercio di Pisa, Lucca e Massacarrara, si sono riunite per formare un unico ente in rappresentanza dell'area vasta, mantenendo comunque sul territorio tutti i presidi, i servizi e gli sportelli all'utenza. L'Unione Comuni della Garfagnana ha chiesto di incontrare i vertici camerali proprio per rafforzare i rapporti di collaborazione tra enti e fare conoscenza diretta con il nuovo presidente, Walter Tamburini, e il suo vice, il lucchese, Rodolfo Pasquini. Anche dopo la fusione, quindi la nascita della Camera di Commercio della Toscana al nord-ovest, noi vogliamo dare il segno proprio tangibile anche con la presenza di una vicinanza ai territori. La Camera di Commercio non si allontana dai territori, e anzi, se è possibile, vogliamo creare sinergie ancora più forti. Ci sono tanti temi che possiamo affrontare insieme ai Comuni, all'Unione dei Comuni della Garfagnana, in primis il turismo, ma non solo, e quindi questa mia presenza oggi qua alla Giunta dell'Unione dei Comuni della Garfagnana vuole stare a testimoniare proprio questo, la vicinanza del nostro ente, della Camera di Commercio, all'economia del territorio della Garfagnana e a tutti gli amministratori di quest'area. A fare gli onori di casa il Presidente Andrea Tagliasacchi, alla presenza di altri colleghi sindaci, mentre i non presenti erano in collegamento web. Tagliasacchi, nel suo saluto, ha sottolineato l'importanza dell'incontro e i rapporti tra gli enti, soprattutto per le attività e i progetti del territorio garfagnino. Sì, alla luce degli importanti progetti che abbiamo in corso come sindaci di La Garfagnana e sull'ambito turistico come Valle del Serchio, credo sia fondamentale questo rapporto con l'area vasta e soprattutto con la Camera di Commercio che rappresenta le attività economiche più vive. Parliamo adesso di formazione. L'associazione SLURP porta sport e gioco nelle classi scolastiche. L'attività motoria e ludica entra nelle scuole della Piana di Lucca con il progetto Il Corpo e il Movimento. L'iniziativa, promossa dall'associazione SLURP, di cui fanno parte sei club service presenti sul territorio, Soroptimis, Lions, Lemura e Host, Unione Veterani Sportivi, Rotary e Panathlon, permette alla scuola dell'infanzia di avvalersi di personale specializzato che, affiancato al personale scolastico, aiuta in modo corretto e scientifico i bambini da 3 a 5 anni a prendere consapevolezza del proprio corpo e del proprio potenziale consentendo al contempo lo sviluppo cognitivo alla base dell'apprendimento disciplinare secondo il concetto per cui, se migliora il corpo, migliora anche il pensiero che deve essere altrettanto ben coordinato. Il progetto si sviluppa praticamente con una convenzione con tutte le scuole in modo tale che poi effettuiamo tramite docenti laureati in scienze motorie attuiamo il progetto con l'attività motoria nell'ambito delle scuole materne e della scuola primaria, ci auguriamo. SLURP porta avanti la proposta formativa nelle scuole materne da 9 anni e adesso punta ad estendere l'attività anche alle scuole primarie. Sapete che oggi le classi quinte prevedono obbligatoriamente due ore aggiuntive di attività motoria e noi completiamo il quadro facendo lavorare anche i bambini della scuola dell'infanzia quindi perché? Perché l'attività motoria sappiamo che è al primo posto, è fondamentale questa è la città del gioco come amiamo definirla ma è la città anche dove si apprende, quindi giocando si apprende e l'attività motoria è alla base anche dello sviluppo cognitivo. Nei complessi di San Romano e San Micheletto il meeting della diocesi per l'ambiente. 400 studenti al lavoro per l'ambiente sono i giovani custodi della sostenibilità della diocesi di Lucca che ha organizzato in collaborazione con scuole, enti e associazioni un meeting sul tema della tutela del pianeta e della biodiversità. I lavori si sono svolti nei complessi di San Romano e San Micheletto. Dapprima i ragazzi sono stati impegnati in una caccia al tesoro che attraverso il gioco, l'esperienza e la condivisione di gruppo ha offerto loro la possibilità di prendere consapevolezza su diversi aspetti legati alle implicazioni degli stili di vita individuali alla riduzione della povertà e ancora alla valorizzazione dell'istruzione e alla riduzione delle disuguaglianze alla promozione di un mondo fondato sulla giustizia e sulla pace e alla crisi idrogeologica. Nella seconda parte del meeting un breve laboratorio musicale e un flash mob ideato per sottolineare l'importanza della partnership nella tutela dell'ambiente per il bene dell'umanità. Per noi è stato importante proprio aprirsi al mondo della scuola per sottolineare l'importanza del dialogo interculturale. Questa mattina ci sono più di 400 ragazzi tra San Romano e San Micheletto e l'importanza che volevamo appunto sottolineare in questo evento è quella della partecipazione di tutti. I linguaggi sono molteplici, le visioni scientifiche e culturali possono essere molteplici e diverse ma questo deve creare ricchezza e dialogo per un futuro migliore. La mattinata si è conclusa con la presentazione del concorso Cura del Creato che coinvolgerà tutte le scuole di Lucca. I giovani hanno bisogno di capire che sono in prima persona custode del creato e anche come farlo. Quindi queste iniziative aiutano loro a uscire un po' da qualche buon sentimento e a capire le strade concrete attraverso le quali agire. Giovani allievi da tutto il mondo a Lucca per studiare danza contemporanea. Arrivano da tutta Europa, dall'Argentina e dalla Tunisia, per studiare a Lucca danza contemporanea. Sono i 20 allievi della prima edizione di TRAI. Il corso è intensivo riservato alla preparazione di danzatori, coreografi e performer. Il programma internazionale per nove mesi arricchirà la città di un nuovo polo di formazione per l'arte e lo spettacolo portando sul territorio non solo studenti ma anche docenti e professionisti di fama mondiale. Il TRAI è un programma diretto a ragazzi dai 18 ai 21 anni, un programma intensivo che dura 32 settimane. Questi ragazzi, che sono tutti di varie nazioni europee e anche non europee, lavoreranno con artisti importanti, internazionali, che verranno qui per tutto il periodo a lavorare con questi ragazzi. TRAI è promosso e organizzato dall'Associazione Amici delle Arti APS di Lucca con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il progetto prevede anche alcune performance degli allievi in luoghi d'arte della città. Grandissimo risultato per Nicola Lazzarini, in arte mago Zazza, secondo classificato nella categoria close-up al concorso internazionale di magia svoltosi in questi giorni ad Abano Terme. Il giovane di Barga, più volte ospite a Noi TV, a Buongiorno con Noi, ha stupito i giurati con la sua proverbiale abilità ed affabilità. Mago Zazza ha portato un numero utilizzando il celeberrimo cubo di Rubik, argomento su cui ha scritto anche due libri e su cui il concorso rientrava nelle celebrazioni dei 70 anni del club magico italiano. In chiusura lo sport, con il calcio, la Serie C e la lucchese che si prepara allo scontro di mercoledì in scena a Fiorenzuola. È tempo di Coppa Italia rendere intensa la settimana anche in Serie C. Strano il calendario che fino al 18 settembre scorso mai aveva visto Fiorenzuola e Lucchese affrontarsi in una gara ufficiale e che adesso, nel breve volgere di 17 giorni alla faccia della scaramanzia, vedrà Rossoneri, Piacentini e Lucchese incrociarsi per la seconda volta. Due settimane fa e spiccioli, al Pavesi, la spuntò al Fiorenzuola 1-0 grazie a questa rete di stronati su calcio di rigore alla mezz'ora del primo tempo. In sede di commento, parlammo e parlarono, di sconfitta bruciante anche perché la squadra del bravo Luca Tabbiani non era apparsa granché. Strano a dirsi ma vero, domenica scorsa lo stesso Fiorenzuola ne ha rifilati ben 5 alla reggiana, considerata da molti la squadra da battere, ed è salito al terzo posto in classifica. Dove sta la verità? In mezzo, come dicevano gli antichi, possibile e plausibile. Lucchese, che ha svolto la rifinitura martedì pomeriggio sul sintetico di Saltocchio, Maraia, che a Montevarchi contro il Sandonato Tavarnelle ha dato continuità per la prima volta allo stesso 11 titolare, apporterà diverse modifiche allo schieramento tipo in quello che possiamo considerare un robusto turnover. Anche quei giocatori, che finora hanno avuto meno spazio o rientrano da infortuni, vedi Franco, potranno far vedere la loro condizione e mettersi in mostra agli occhi del 54enne tecnico rosso-nero. Ricordiamo che si gioca in gara unica e al termine dei 90 minuti, in caso di parità, si passerà direttamente calci di rigore. In caso di successo, la Lucchese se la vedrà il 2 novembre con la vincente di Torre Solbia, derby sardo con la stessa Torres, che domenica prossima calerà al Porta Elisa a distanza di 17 anni. E ci risiamo. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Adesso la linea passa alla redazione di Viareggio e della Versilia.